cosa è un astuccio da viaggio per mettere cose del bagno skin care barba denti una tasca qui a rete bello capiente davanti pure prezzo totale non più di 2 euro e inoltre pure questo è un'altra cosa da usare ok vediamo cosa c'è ancora cosa sarà mai cosa conterrà tante cosine per i denti non pensi di acciaio ma alluminio no 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 cambiano questo è a punta c'è anche la protezione vedi un altro più piccolo sono specie di stuzzicadenti questo per le scarpelle proprio questo è un fil del dentale di metallo così qui questo è un altro un'altra forma così tac tac chiaramente vanno puliti per bene devono essere usati perché non riesco a chiuderlo bisogna essere usati e poi quando dobbiamo apposare e quindi questo qua già direttamente qua vedi uno due e tre questo è un lettore di tutto lettore micro sì memory card per usb c quindi per il mac va bene e questo anche normale il bello è questo qua può diventare anche micro usb e poi inoltre puoi anche usarlo come adattatore da usb c a usb normale come micro sd e sd molto 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 conveniente questo va direttamente nella nella borsa del computer questo è questo invece è un lettore sd un lettore sd micro tipo da mettere con portaglia e poi la classica c'è c'è sempre in tutti i pacchi la classica sd che c'era un'offerta supersonica tipo 128 giga pagano tipo 3 euro e qualcosa non è niente inoltre costa 7-8 euro e questo qui lo stoppiamo questo qui è un'offerta questo qui è un'offerta è un'offerta non è un'offerta